Buonasera, ben trovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max, questa sera edizione con ospite. Nei nostri studi è venuto a trovarci il sindaco di San Salvo, Gabriele Marchese. Buonasera sindaco, ben trovato. Buonasera. E notiamo subito che il sindaco porta la coccarda in onore del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, un anniversario che anche lei sicuramente ha festeggiato come tantissimi comuni nel nostro paese e in Abruzzo, vero sindaco? Sì, abbiamo messo su un calendario ricco di manifestazioni che cominciano dalla notte dell'Unità d'Italia, poi ci sarà domani l'Alza Bandiera con altre iniziative, e poi ci sarà successivamente delle manifestazioni dal 3 al 18 maggio con una mostra, un dibattito. Congruiremo il tutto il 2 giugno con la Festa della Repubblica, dove presenteremo anche i lavori fatti nelle scuole di ogni ordine grado di questa nostra città, che partecipano a un concorso nazionale, la Tavola della Pace, e poi parteciperemo anche alla Marcia Parigi Assisi. E allora iniziamo subito con il nostro telegiornale, proprio con un servizio dedicato al 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, oggi Consiglio Comunale straordinario a Lanciano, vediamo. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano verde, bianco e rosso, così recita l'articolo 12 della nostra Costituzione nei principi fondamentali. E nel 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, il Comune di Lanciano celebra un consiglio straordinario nel Teatro Fenaroli, edificio cittadino che ha anch'esso un secolo e mezzo di storia. Tanti gli interventi che si sono succeduti sul palco dei vari consiglieri comunali, conclusi dal Sindaco Filippo Paolini, il quale si è soffermato sul significato odierno dell'Unità d'Italia. Sicuramente se diamo l'occasione ai nostri giovani di approfondire il pensiero di Cavour, di Mazzini, io parlavo della pubblicazione dei doveri dell'uomo di Mazzini, dove si parla di giustizia sociale, di economia, si parla di tantissime questioni politiche, allora fondamentali per costruire l'Italia, ma all'inizio del terzo millennio è altrettanto fondamentale. Io penso che si debba ripartire da quelle idee politiche per poter costruire, per tenere insieme l'Italia, in un momento nel quale si parla spesso di federalismo senza neanche sapere di che cosa si sta parlando, sapendo che il federalismo che noi ospichiamo non è un federalismo che divida, ma è un federalismo che renda più efficiente la macchina amministrativa e che comunque l'Italia resti una, come lo è stato grazie a tanti sacrifici di giovani nel 1861 e naturalmente anche nei decenni susseguenti. Sindaco di San Salvo, Gabriele Marchese, ospite del Tg Max, qual è per lei il significato dell'Unità d'Italia a 150 anni dall'unificazione? Ma io credo che dobbiamo rifondare in questo momento alcuni principi forti che hanno fatto sì che da 150 anni l'Italia potesse essere un unico paese. Io credo che stiamo vivendo un momento particolare, un momento di disgregazione e fa bene il Presidente della Repubblica a richiamare tutti, gli enti, l'istituzione ai vari livelli, a far sì che il tricolore possa essere rimesso al centro dell'attenzione e più che altro quei valori fendanti che stanno insieme al tricolore e che sono sanciti nella carta costituzionale, che sono i valori di libertà, di eguaglianza e di fraternità. Vediamo spinte di disgregazione, vediamo forze politiche che abbandonano le cerimonie ufficiali, questo non è giusto. Assistiamo a troppe diseguaglianze che ci sono nel paese, allora io credo che un paese unito deve porsi i problemi dello sviluppo come al sud così come al nord, della disoccupazione, cioè quelle tante diseguaglianze sociali che oggi fanno sì che ci sia un paese a due marci. Io credo che queste sono le occasioni per far sì che si rimetta al centro dell'attenzione sia la storia di questo nostro paese e quindi i padri fondanti del risorgimento della carta costituzionale della Repubblica, ma anche quei grandi problemi che attanagliano il dramma di tanti giovani, di tanta famiglia che non garantisce nessuno futuro. E a proposito del centocinquantesimo, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente in una nota ai presidenti di Camera e Senato Fineschifani ha declinato l'invito a partecipare alla cerimonia celebrativa dell'Unità d'Italia che si terrà domani a Montecitorio alla presenza del Capo dello Stato. La decisione è stata assunta per protesta perché, dice Cialente, c'è un pezzo del paese ormai completamente abbandonato a se stesso e senza prospettive. Ringrazio le eccellenze vostre, scrive ancora il sindaco dell'Aquila per l'invito alle celebrazioni, con profondo rammarico tuttavia che devo declinarlo. Cialente poi spiega i motivi del suo no in quanto sindaco di una città distrutta dal terremoto, commissariata con totale mortificazione dell'autonomia comunale, priva di bilancio di previsione, bloccata completamente rispetto all'avvio della ricostruzione pesante, peraltro fortemente contrastata. Per l'intera giornata, domani Cialente annuncia che occuperà simbolicamente il devastato Palazzo Margherita nel centro storico della città, sede del comune dell'Aquila fino alla data del sisma. Rientrando così dopo mesi in quelle stanze, con la morte nel cuore, scrive ancora Cialente, tra la selva dei puntellamenti, per tentare di ricordare all'Italia intera le istituzioni in una giornata così importante che c'è un pezzo del paese ormai completamente abbandonato a se stesso e senza prospettive. Una lettera delle dichiarazioni davvero forti, Sindaco, come commentarla? Innanzitutto voglio esprimere la mia solidarietà, la massima solidarietà al collega Cialente e a tutta la popolazione aquilana e l'esasperazione di un dramma che sta vivendo quel popolo da circa due anni e abbiamo visto concretamente che al di là delle manifestazioni e delle parate di apparenza, quel popolo ancora oggi vive nella sua interezza e nella sua drammaticità una marea di problemi che partono dall'avere un tetto, dall'avere un lavotoro, dal far ripartire l'economia, dal far rivivere culturalmente quella città che è stata culla di cultura per l'intero Abruzzo anche all'interno del sistema nazionale. Io credo che il Sindaco Cialente faccia bene a lanciare questo forte grido d'allarme affinché le istituzioni regionali e nazionali si rifocalizzi l'attenzione sull'Aquila perché non si può espropriare il ruolo e la funzione di un Sindaco, il ruolo e la funzione di un Consiglio Comunale e di una città. Io credo che il Comune dell'Aquila ha tutto il diritto a gestire il proprio futuro. Voltiamo pagina, andiamo alla cronaca. 13 anni di reclusione ciascuno, la definitiva confisca della lussosa villa nella loro disponibilità a basto. E' la condanna chiesta oggi per i coniugi Roma arrestati a metà luglio dello scorso anno per detenzione spaccio di 10 kg di droga. Vediamo. 13 anni di reclusione ciascuno e la definitiva confisca della lussosa villa nella loro disponibilità. E' la condanna che a basto in tribunale ha chiesto la pubblica accusa rappresentata dal procuratore capo della Repubblica Francesco Prete per Carmine Bevilacqua, 34 anni, e Lucia Sauchella, 36, coniugi di etnia Rom arrestati a metà luglio dello scorso anno per detenzione spaccio di droga. Furono infatti ritrovati 10 kg di sostanze stupefacenti tra eroina e cocaina nella lussosa villa in Via dei Bontempi nel quartiere incoronata di Vasto. Il valore dello stupefacente si aggira sui 150.000 euro lordi ma sul mercato avrebbe potuto fruttare anche quattro volte di più. Gli inquirenti ritengono che possa provenire dalla rotta balcanica. I carabinieri giunsero all'arresto dei due Rom e al sequestro della droga seguendo i movimenti di alcuni spacciatori pescaresi che si recavano spesso a basto per poi farvi ritorno con cospicui quantitativi di droga. Attraverso servizi di osservazione e pedinamento accertarono dunque che la villa dei due Rom era un importante snodo per lo smestamento della droga in tutto l'Abruzzo ma anche in Molise. La villa, che risulta di proprietà dei figli della coppia insieme con alcune auto utilizzate dai due era stata posta sotto sequestro. Prossima udienza il 3 maggio per la ringa difensiva e le conclusioni finali prima del decisivo giudizio su questa vicenda di droga. E a proposito di cronaca lo sentiamo spesso proprio dalle notizie di cronaca quando si parla di sicurezza si parla spesso di vasto ma anche di san salvo di territorio cosiddetto di confine. Sindaco, allora la situazione è davvero preoccupante dalle sue parti? Ma noi siamo realtà di confine che ogni tanto ci sono delle puntature di questa natura io voglio ringraziare le forze dell'ordine i carabinieri, la polizia e quant'altro che stanno facendo un ottimo lavoro assicurando una serie di malviventi alla giustizia è chiaro che non dobbiamo mollare la guardia le istituzioni tutte a cominciare dai comuni le forze dell'ordine, la magistratura e quant'altro dobbiamo fare sinergia affinché tutti quegli anticorpi necessari che ci permettono di arginare l'immissione all'interno dei nostri territori di organizzazioni malevitose io credo che questo va fatto e va rafforzato sempre di più. Naturalmente c'è un fenomeno delinquenziale che è naturale all'interno di ogni comunità e lì torno a ripetere le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro e quindi mi auguro che si possa rafforzare e incidere ancora di più di quanto non stiano facendo fino ad oggi. La pagina della sanità a Pescara per importanti novità presso l'ospedale civico. Novità in arrivo nel reparto di urologia dell'ospedale di Pescara. A disposizione della struttura arriveranno due nuove apparecchiature per fronteggiare la calcolosi. Si tratta di sofisticati macchinari che renderanno il presidio della città adriatica unico in Abruzzo nel trattamento di tale patologia. Ad illustrare nel dettaglio i due apparecchi il direttore dell'unità operativa di urologia Giuseppe Romano. La calcolosi rappresenta per noi circa il 30% dei ricoveri annui. Non è un solo macchinario perché ne sono due. Uno è l'alitotrissia che la HALS ha preso a noleggio per una volta, due volte al mese secondo i casi e in più ha acquistato invece definitivamente un laser ad olmio per le calcolosi dell'uretere per le calcolosi anche le scicali che può essere anche utilizzato su tessuti molli come le stenosi dell'uretere alcuni tipi di tumore e le stenosi dell'uretra. Quanto ai tempi il dottor Romano ha spiegato che il laser stiamo aspettando il collaudo è già arrivato. Il litro di d'ore dal mese di aprile una volta al mese come dicevo o due quindi dal massimo di 30 giorni sarà a disposizione dei cittadini. Presente anche il manager dell'ASL di Pescara Claudio Damario che ha illustrato le modalità di utilizzo delle apparecchiature da parte dei cittadini. Ci sarà un accesso di circa 30 pazienti al mese che possono usufruire di questo trattamento ultraspecialistico per far sì che ci sia appropriatezza questo flusso di prenotazione sarà gestito direttamente dal reparto. E anche per quanto riguarda la sanità il territorio san salvese è definito territorio di confine i san salvesi dovranno curarsi all'ospedale di Vasto o a quelli del vicino Molise parliamo dunque di forte mobilità passiva oppure no? Ma cerchiamo di utilizzare le nostre strutture fin quando sono in grado di rispondere alle esigenze della popolazione però dobbiamo dire con grande rammarico che le scelte che sono state fatte a livello regionale hanno indebolito la sanità pubblica di questa nostra regione e aumenta sempre di più la passività rispetto ad altre realtà. Io credo che sia vergognoso quello che sta avvenendo all'interno del sistema sanitario regionale. Basta girare per i reparti in alcune realtà faccio l'esempio di Chieti ma si può andare in qualsiasi altra struttura vediamo anziani 80-90 anni lungo i corridori senza un minimo di privacy senza un minimo di quel calore che è quella riservatezza che ognuno potrebbe avere ma oltre a questo i continui tagli hanno portato sostanzialmente a un impoverimento a un indebolimento del sistema sanitario regionale in maniera generalizzata. Quel che è ancora più grave si è tagliato dappertutto il deficit non sta diminuendo e abbiamo tolto quel diritto alla salute quel diritto all'assistenza a quelle popolazioni interne dove sono stati tagliati gli ospedali vorrei ricordare che dopo aver tagliato gli ospedali la giunta regionale in quei comuni penso all'ospedale di Casoli penso all'ospedale di Guardia Grele di Pescino e Tagliacozzo è stato anche tagliato i presidi di 118 a San Salvo a Villa Santa Maria a Lama dei Peligni a Torricella Peligna e ad altre realtà quindi si è negato anche quel minimo diritto alla salute io mi auguro che ci possa essere un ripensamento possa prevalere quel senso di responsabilità in maniera tale che i nostri cittadini siano messi nelle condizioni di avere il diritto alla salute altrimenti accade quello che si sta rafforzando sempre di più che la regione Abruzzo sarà costretto a cacciare sempre i soldi caccia ancora di più perché la gente si va a curare nelle realtà del nord e negli altri ospedali voltiamo pagina agricoltura parliamo di vino e olio l'Abruzzo parteciperà al Vinitalia e al Sol dal 7 all'11 aprile con 107 aziende l'Abruzzo sarà a Vinitalia e Sol con la costituzione delle società consortili a responsabilità limitata che riunisce rispettivamente i produttori vitivinicoli e quelli oleari avvenuta nella sede dell'Enoteca regionale di Ortona è stata infatti scongiurata l'ipotesi che l'Abruzzo fosse costretto a rinunciare alla partecipazione alla più importante manifestazione mondiale del settore a causa della razionalizzazione dei fondi regionali operata nell'ambito della manovra finanziaria la soluzione è stata individuata attraverso l'accesso ai fondi riservati alle attività di informazione e di promozione previste nel piano di sviluppo rurale 2007-2013 che assegna finanziamenti alle società consortili costituite da produttori alle quali sono stati dati i nomi di Divino Abruzzo in Fiera e Olio Nostro Sol l'Abruzzo non poteva rischiare di non partecipare a Vinitalia e Sol come avvenuto alla BIT ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Mauro Febbo considerato che rappresentano due eventi di importanza strategica per la promozione di un settore trainante della nostra economia e fondamentali per stabilire accordi commerciali con gli operatori italiani e stranieri l'Abruzzo parteciperà alla grande kermesse organizzata da Verona Fiera e dal 7 all'11 aprile dedicate al vino e all'olio con circa 80 aziende al Vinitali collocate all'interno del padiglione 11 e con 27 aziende al Sol il settore vitivinico in Abruzzo rappresenta oltre il 20% della produzione lorda vendibile agricola regionale con un valore di circa 300 milioni di euro e il 6% di quella vinicola nazionale con 3 milioni di ettolitri metà dei quali finisce in oltre 110 milioni di bottiglie prodotte da circa 180 aziende si stima che le esportazioni nel 2010 abbiano sfiorato quota 100 milioni di euro più 18% circa dopo che il 2009 si è concluso per l'Abruzzo con 88,6 milioni di euro ossia il 2,5% di esportazioni italiane di vino e il sesto posto dopo le grandi blasonate come Veneto Piemonte Toscana Trentino Alto Adige e Lombardia il settore olivicolo conta su una produzione di 220 mila quintali di olio ogni anno per il 90% di qualità extravergine di oliva numeri che ne fanno la quinta regione in Italia con circa il 4% della produzione E parliamo ancora di agricoltura Vasto firmata oggi in una convenzione tra il Comune e l'Arsa per la valorizzazione del pomodoro mezzotempo con il patrocino della condotta Slow Food La valorizzazione e tutela del pomodoro mezzotempo di Vasto produzione tipica del territorio al centro di una convenzione firmata questa mattina tra il Comune di Vasto e l'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo a siglarla sono stati il sindaco Luciano Lapenna e il rappresentante dell'Arsa Rocco Marinucci interessata al progetto e anche la condotta Slow Food dell'area vastese che tra i suoi obiettivi persegue proprio la cura e la promozione di quelli che sono i prodotti di qualità fondamentali per una cucina buona e anche tradizionale Sindaco questa mattina ha firmata una convenzione per valorizzare il pomodoro di mezzotempo non solo la valorizzazione e la promozione ma la tutela di questo frutto dell'orto vastese che sempre più va nel dimenticatoio attraverso lo studio dell'Arsa che è l'agenzia regionale dello sviluppo agricolo coordinato da Slow Food noi andremo a ricercare anzi l'art andrà a ricercare quello che è il vero mezzotempo che in questi anni ha subito sicuramente alcune variazioni nel suo ceppo originale quindi alla fine di questo lavoro si troverà si ritornerà a quello che era il vero mezzotempo con tutte le sue caratteristiche con tutte le sue qualità credo valorizzando per sempre ecco con una banca dati quello che è il vero mezzotempo pomodoro di Vasto e allora Vasto San Salvo anche terra di prodotti tipici e San Salvo in particolare porta per quanto riguarda porta a sud della costa dei Trabocchi se ne è parlato spesso anche in questi ultimi giorni a proposito dell'istituzione del parco della costa teatina sì io mi auguro che possiamo fare prima possibile la perimetrazione del parco che si vingono una serie di resistenze da parte di alcuni all'istituzione del parco perché non dobbiamo discutere più se istituire il parco meno il parco è istituito dal 2001 ci sono circa 4 milioni e 200 mila euro fermi al ministero per l'istituzione del parco oramai il parco è una realtà io credo facciamo sì tutti quanti insieme comuni provincia regione che questa istituzione possa diventare un'occasione un'opportunità di sviluppo della regione Abruzzo e che abbia una valenza nazionale perché questo è un progetto è un parco nazionale che ci possa portare da un lato a promuovere lo sviluppo turistico della nostra costa dall'altro a tutelare e a mettere su un progetto di sviluppo sostenibile ci sono resistenze da parte di alcuni enti e di alcune istituzioni la regione per esempio non ha fatto niente per alcuni anni io mi auguro che si possa procedere con rapidità noi abbiamo l'emendamento che ha presentato il senatore Legnini che da tempo fino al 30 settembre ha chi di dovere per fare la perimetrazione del parco quindi di concerto provincia comuni e regioni altrimenti subentrerà il commissario e io mi auguro che questo parco possa partire prima possibile vedete non dobbiamo concepire il parco soltanto in termini di tutela ma io credo che lo dobbiamo concepire innanzitutto come opportunità di sviluppo e di tutela di un tratto di costa che fino adesso è stato tutelato grazie alla ferrovia perché lì non si poteva costruire perché c'era la ferrovia adesso mettiamoci del nostro mettiamoci l'intelligenza dell'uomo la passione l'amore che abbiamo per una costa bellissima ma che può dare anche occasione opportunità di sviluppo a tanti giovani che sono in cerca di posto di lavoro a Pescara la riqualificazione al quartiere Sandonato e i lavori sono stati avviati oggi vediamo hanno preso ufficialmente il via oggi i lavori di riqualificazione del quartiere CEP Sandonato a Pescara dopo l'avvio dei lavori di recupero dei quartieri Gesca e Lezzanni è arrivato il momento del restyling anche per il quartiere Sandonato uno degli obiettivi dell'amministrazione Mascia infatti è quello di dedicare attenzione alle periferie cittadine definite punti nevralgici del territorio ma con evidenti segni generati dall'indifferenza l'intervento riguarderà via Sandonato e un ampio tratto di via Riosparto maggiore illuminazione manto stradale sicuro marciapiedi larghi ed eliminazione delle barriere architettoniche queste le parole d'ordine della riqualificazione come ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Pescara Isabella Del Trecco un grande intervento che spinge ovviamente ad una riqualificazione delle aree periferiche o comunque più decentrate della città ed è uno dei primi interventi che è partito ne seguiranno degli altri perché l'attenzione dell'amministrazione è sicuramente rivolta a tutta la città sia alla fascia centrale che alle zone più periferiche più delequalizzate per dare dignità a tutti e anche perché c'è una tensione veramente dall'A alla Z a 360 gradi tutti gli interventi infatti prevedono una maggiore sicurezza dei cittadini anche l'illuminazione sarà non solo nuova ma notevolmente più forte questo proprio per dare sicurezza anche a tutte le ore del giorno e della sera in caso di bisogno un intervento che porta a 500 mila euro come costo e va a rivedere un lungo tratto di via Riosparto e di via San Donato fatto tra l'altro in maniera molto valida e riqualificante considerando che non metteremo il semplice cemento asfalto ma andremo con dei marciapiedi ampi e di betonella e allora parliamo adesso del ruolo della funzione del sindaco oggi lei come sindaco di San Salvo all'interno del suo partito che è il partito democratico ha costituito la cosiddetta tela dei sindaci qual è l'obiettivo? ma noi vogliamo rimettere al centro dell'attenzione il ruolo e la funzione dei sindaci e più in generale il ruolo e la funzione degli amministratori locale che purtroppo negli ultimi anni le politiche centralistiche portate avanti dal governo e anche dal nazionale e anche da quello regionale hanno messo nel cantuccio tante risorse che sono nei territori a cominciare dagli amministratori per arrivare ai sindaci dove si portano avanti esempi di buone pratiche e di buone prassi e noi con questa iniziativa vogliamo interloquire con gli altri enti con le altre istituzioni vogliamo rimettere al centro dell'attenzione un ruolo concertativo con gli enti superiori e vogliamo dare un contributo al governo complessivo di questa nostra regione degli enti in generale perché all'interno dei comuni ci sono tante iniziative che sono risorse che possono essere valorizzate a livello più ampio e a livello più vasto faccio alcuni esempi la riforma della sanità c'è stato un atto unilaterale da parte del governo regionale senza fare un minimo di concertazione con gli enti locali parlo del problema dei rifiuti anche lì una visione centralistica senza tener conto di quello che concretamente avvengono nei comuni poi vediamo che noi siamo quelli che concretamente dobbiamo raccogliere i rifiuti all'interno delle nostre abitazioni e quant'altro ma un insieme di questioni che noi vogliamo riporre al centro d'attenzione Lei ha scritto recentemente anche una nota sul piano regolatore generale dei comuni in relazione proprio a questo provvedimento preso dal Consiglio regionale sui sottotetti che cosa vuole dire? Questo fa parte sostanzialmente di quelle cose che dicevo poc'anzi nel senso che noi come comuni siamo in difficoltà a predisporre bilanci come non mai nel senso che lo Stato continuamente ci falcidia i nostri bilanci con tagli continui ai trasferimenti ci sono stati già l'anno scorso nei bilanci 2010 ci sono quest'anno nel bilancio 2011 ci saranno nei bilanci futuri e noi non sappiamo più come erogare servizi ai cittadini di fronte a un'aspettativa quotidiana e di aumento dei servizi da parte dei cittadini noi abbiamo minore trasferimento allo Stato non possiamo mettere le tasse perché la crisi economica è per tutto un insieme di fattori quindi abbiamo difficoltà a portare avanti i nostri comuni sostanzialmente da un lato c'è la crisi economica pure dall'altro lato c'è il patto di stabilità per i comuni sopra a 5 mila abitanti e quindi sostanzialmente abbiamo dei bilanci ingessati dall'altro lato abbiamo delle continue incursioni da parte di chi dovrebbe legiferare o da parte di chi dovrebbe programmare in questo caso come la regione su quelle competenze che sono proprie degli enti locali faccio un esempio è stato fatto tempo fa ma è la terza volta che avviene da parte del consiglio regionale e da parte della maggioranza che governa questa regione una legge sui sottotetti allora io ho posto un quesito a tutti dicendo ancora senso fare i piani regolatori all'interno dei comuni cioè programmare il territorio lo sviluppo urbanistico che i comuni normalmente fanno quando noi poi siamo espropriati come in questo caso del nostro ruolo e delle nostre funzioni cioè a chi va a fare quel danno andando ad alterare gli standi urbanistici quando noi facciamo un piano per esempio nel mio comune il 33% deve essere destinato a verde parcheggi strade e quant'altro se in un quartiere ci sta una palazzina che ha 10 appartamenti e poi ce ne andiamo a fare 14 sostanzialmente saltano tutti gli standard di vivibilità è la vergogna che c'è in questa legge che tu puoi sanare una palazzina che sta in un quartiere e puoi prendere i parcheggi che sta in un altro sostanzialmente quindi è al di fuori di qualsiasi logica di qualsiasi prassi di buon governo e gestione del territorio ed ora c'è la pagina del calcio esonerato mister bitetto all'aquila è stata affidata la panchina a Ianni vediamo salta un'altra panchina in seconda divisione con l'aquila che non scommette più su Leonardo bitetto che paga per tutti la notizia era nell'aria decisa senza ripensamenti nella tarda serata di ieri con una soluzione interna che propone alla guida della prima squadra l'attuale vice Maurizio Ianni il nuovo mister da solo un anno ha appeso le scarpette al chiodo dopo una carriera tra i dilettanti con la casacca rosso-blu soprattutto ora la grande occasione la società così inteso vivacizzare il periodaccio aquilano con uno spogliatoio che non è sembrato seguire più l'allenatore rinforzato nel mercato di gennaio con tre acquisti di categoria il club ha improvvisamente intrapreso un percorso a singhiozzo fino a scivolare fuori dalla zona playoff poi la decisione di cambiare tecnico Ianni ha vinto la concorrenza di Francesco Giorgini che nell'ultimo turno di campionato era al fattori per seguire da vicino l'Aquila mentre si è parlato di interessamenti anche per Chiappini Fontana e Gentilini in un possibile ritorno il presidente Egizi però ha preferito puntare su Ianni che il gruppo già lo conosce bene adesso occorrono le risposte del campo con la trasferta sul terreno del crociato in Oceto i rosso-blu hanno un ritardo rispetto alla zona playoff di ben quattro lunghezze Allora siamo giunti al termine del nostro telegiornale ospite ve lo ricordo del sindaco di San Salvo Gabriele Marchese concludiamo con il tema d'apertura ovvero il centocinquantesimo anno dell'unità d'Italia lei sarà a Torino venerdì con circa 270 altri sindaci che fanno parte del Consiglio Nazionale del Lancio a Torino ci sarà anche il capo dello Stato a ricordare che cosa Torino prima capitale d'Italia sì andiamo a celebrare come associazione nazionale dei comuni italiani insieme al Presidente della Repubblica al Teatro Reggio il centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia andiamo a Torino perché Torino è stata la prima capitale italiana lo facciamo in maniera solenne insieme al Presidente della Repubblica e mi auguro che possa essere una grande e bella occasione sono tra l'altro quelle occasioni che segnano l'esperienza di ognuno di noi come sindaco e rafforzano quei valori ognuno di noi nei confronti della patria nei confronti dello Stato unitario e che credo che sempre di più nella nostra azione quotidiana dobbiamo porre al centro la nostra attenzione amministrativa e anche politica allora lei non crede che siamo stati colonizzati dai piemontesi come qualcuno dice ma io credo che l'Italia è abbastanza estesa vasta ci sono delle influenze di diversi popoli e credo che dobbiamo avere la capacità di fare sindese e mettere insieme le diverse etrie le diverse culture per far continuare ad essere l'Italia un grande paese democratico pluralista e che possa continuare a fare integrazione allora concludiamo qui questa edizione del Tg Max grazie al sindaco Gabriele Marchese grazie a tutti voi per l'attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti